Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata all'attacco sferrato dal meetup del Movimento 5 Stelle all'indirizzo del sindaco di Gela, domenico messinese della giunta municipale. I grillini fanno un excursus sulle cose non fatte e su quelle fatte male. Vediamo. Ancora ci si chiede perché è stato cacciato dal Movimento 5 Stelle. La risposta arriva dal meetup che in una nota inviata dal consigliere comunale, la grillina Virginia Ferruggia, fa un excursus di quanto accade in città. L'incipit del comunicato redatto è composto da cinque parole per il bene di Gela. Il meetup sottolinea che l'improvvisazione e il pressapochismo con cui l'amministrazione affronta le quotidiane criticità di Gela ci lascia del tutto essere fatti. In difesa di coloro che hanno offeso la giornalista Lucarelli, in nome di una falsa difesa della città, la compagine di governo inventa il nudismo tra carcasse ed animali e amianto. Non serve a nulla che la Commissione Sviluppo Economico suggerisca programmi strutturati per il centro storico. All'aggiunta non importa. Meglio sbrigarsi a estrapolare qualche cosa marginale che sta nella proposta e si crea l'estemporanea degli ombrelli più cari del mondo. Il meetup avverte. Vedrete che a breve incolperanno la Commissione come incolpano i cittadini per i rifiuti, perché anche in questo caso a nulla serve che i comitati, i cittadini e le associazioni suggeriscano delle isole ecologiche per ottimizzare la differenziata. Si preferiranno sempre soluzioni che esporranno la città a costi sempre maggiori, oltre al danno sanitario e d'immagine sempre maggiore. Nella nota si legge ancora che tutti i piani strategici, le programmazioni, i piani di medio termine sono fermi come del tutto scuro e il futuro della città relativamente al bilancio e al piano regolatore. Un futuro radioso si prospetta invece per l'azienda che si occupa della raccolta rifiuti e che a quanto pare agisce incontrollata e legittimata al disservizio. È di pochi giorni infatti che è stato autorizzato il pagamento dei servizi aggiuntivi per più di 600.000 euro con ordinanza sindacale e contestuali decreti ingiuntivi. Per il resto, rimarca il meetup, improvvisazioni utili a sviare l'attenzione da problemi enormi che il sindaco ha deciso di non risolvere facendo un grande regalo a Caltacqua, Politecnica, Tecra, Eni, Presidente della Regione e altri. Stesso destino per le bonifiche dove con tutti i tavoli aperti, ironicamente, si potrebbe fare un negozio di mobili ai quali puntualmente si assenta notturno Eni e Regione in un continuo rimpallo. Ogni attenzione è centrata sull'inutile rampicata sociale di gente che non si è mai attivata per il bene della città e che oggi invece la gestisce totalmente, mentre ci immaginiamo il sindaco che passeggia su una città distrutta con una bici elettrica comunale, sotto un cielo coperto da inquietanti, costosi ombrelli, spaventapasseri, compiaciuto di avere tradito il movimento e una città intera. Preoccupandosi, ribadisce il meetup, solamente di regalare alla sua segretaria una riconferma senza interruzione di un posto di lavoro al comune che loro sperano possa diventare a tempo indeterminato. Adesso parliamo di raccolta differenziata. L'assessore comunale Simone Siciliano fa chiarezza su quanto sta avvenendo a Gela. Sentiamo. Chi in queste ore sta alimentando voci infondate sul servizio integrato dei rifiuti si qualifica come un artigiano di fandoni ad uso politico. Non ci sta l'assessore comunale all'ambiente Simone Siciliano che controbatte ad alcune illazioni sul settore di sua competenza. Le inesattezze costruite ad arte, ha continuato il vice sindaco, partono dal confondere il capitolo servizi con il capitolo canone. I servizi assimilati alla gestione dei rifiuti possono essere liquidati proprio perché è escluso il secondo. Sulle affermazioni relative all'ipotetica continuità amministrativa nello svolgimento dei servizi aggiuntivi per mantenere un adeguato livello di decoro della città, rimarco che gli stessi sono stati attivati subito dopo l'affidamento dell'appalto, già dall'amministrazione che ci ha preceduto nel 2015 e per i quali, in settore, arrivano regolarmente ogni mese le relative fatture per il servizio svolto di riassetto del territorio, indispensabile per colmare la grave abitudine di molti cittadini indisciplinati di conferire fuori dagli orari e dai giorni del calendario per la raccolta differenziata, il cui costo nell'anno di gestione messinese è stato ridotto, riducendo al minimo il numero di interventi, pur tutelando quella fascia di lavoratori che nel passaggio di cantiere aveva perso il posto di lavoro. La macchina della bugia, dice il siciliano, si nutre inoltre delle proroghe concesse alla Tecra. La verità non detta è che quelle proroghe sono state volute dalla maggioranza dell'assemblea dei sindaci della SRR4 e solo perché, ancora la regione non ha approvato i piani d'ambito, la stessa società non può espletare una nuova gara. I fustigatori dell'ultima ora, ergendosi al ruolo di alti statisti che non parlano onestamente ai cittadini, ora farebbero meglio a sottolineare che i servizi aggiuntivi sono stati dimezzati per volontà di questa amministrazione comunale rispetto all'anno precedente e che solo grazie all'istituzione di un direttore per l'esecuzione del contratto che controlla il servizio, l'emergenza rifiuti che dilaga in questi giorni in tutti i comuni siciliani non ha avuto finora lo stesso impatto registrato con il mio precessore nell'emergenza dell'estate 2015. Ne si puntualizza il lavoro fatto per l'istituzione dell'Aro proprio nell'ottica di gestire un servizio di raccolta rifiuti ritagliato sulle necessità del territorio gelese o ancora gli sforzi negoziali con la regione per la dotazione impiantistica che permetterebbe di avere a Gera nel prossimo futuro degli impianti di trasformazione dei rifiuti a emissioni zero per la produzione di biocarburanti e dunque poter chiudere il ciclo dei rifiuti zero in discarica. Infine, andrebbe dato merito alla redazione del regolamento per il servizio di raccolta differenziata. Evidentemente, chiude Siciliano, l'obiettivo principale dei miei detrattori è delegittimare l'attuale amministrazione comunale prescindendo dagli sforzi messi in campo nell'anno trascorso. Intanto, lo stesso vice sindaco sottolinea che un controllo maggiore ha prodotto una riduzione drastica dei costi del servizio per gli interventi straordinari, indispensabili per garantire l'ordinarietà di questo servizio quello progettato con il capitolato speciale d'appalto, palesemente inadeguato alla vastità e complessità del territorio gelese. Dall'8 agosto, dice Siciliano, è prevista la rimozione di tutti i cassonetti presenti in strada eliminando così la presenza di punti preferenziali per la creazione di discariche puntando invece ad un servizio porta a porta spinto con il prelievo anche del vetro e dell'alluminio direttamente a casa inserendo un ulteriore giorno per la raccolta dell'umido liberando i cittadini dal disagio di tenere a casa la frazione che più di tutte crea molestie olfattive. A questa, concluso il componente della giunta messinese, si aggiungeranno le isole di prossimità presidiate e dislocate nei quartieri periferici per educare e stimolare in tutta la collettività anche nelle aree limitrofi comportamenti virtuosi nel metodo di raccolta con l'obiettivo di raggiungere il 50% di differenziata nel prossimo semestre anche con sistemi di premialità oltre che di controllo e repressione di comportamenti scorretti e poco rispettosi per la tutela dell'ambiente in cui viviamo. Il consigliere comunale di un'altra Gela, Salvatore Sammito, ha chiesto al sindaco e al presidente del consiglio comunale di conoscere se in materia di circolazione di velocipedi sulle strade con particolare riguardo alla categoria degli utenti deboli della strada l'amministrazione abbia allo studio la fattibilità di una pista ciclabile quali sono i tempi di realizzazione e se sia possibile a diminuire sul tratto del lungomare Federico II di Svevia il limite di velocità a 30 km orari, almeno nel periodo estivo Adesso ci occupiamo della vicenda che si è verificata a Niscemi dove un uomo è deceduto a causa di un malore dopo aver atteso un'ambulanza che arrivasse da Gela All'ospedale niscemese il mezzo infatti è fermo per guasto meccanico Il Partito Democratico adesso chiede che venga fatta luce sull'accaduto Ognuno per i propri luoli e compiti devono avviare indagini rapide e concrete per accertare e punire i responsabili dal disservizio e per far sì che simili gravi anomalie non possano verificarsi in futuro E quanto chiede il Partito Democratico di Niscemi alla direzione dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta all'assessore regionale alla sanità al presidente della regione Sicilia e alla procura della Repubblica di Gela Del caso sono stati informati anche il sindaco di Niscemi il presidente del Consiglio Comunale e i parlamentari della provincia di Caltanissetta La vicenda è legata alla morte di un niscemese di 74 anni Vincenzo Cutrona avvenuta giorni addietro L'uomo ha accusato un malore dinanzi alla propria casa probabilmente colpito da infarto e si è atteso che arrivasse l'ambulanza da Gela perché all'ospedale di Niscemi l'ambulanza disponibile era ferma per un guasto meccanico ma da Gela a Niscemi l'ambulanza è giunta dopo 40 minuti nonostante le manovre di rianimazione e defibrillazione praticate dai sanitari Cutrona è morto Noi chiediamo che venga fatta un'indagine rapida e concreta per accertare le responsabilità di chi ha causato questo ritardo di circa 40 minuti dal momento in cui è stato chiamato il 118 fino a quando è arrivato il mezzo dell'autobulanza Per quanto si capisce, pare che la città di Niscemi fosse sformita di autoambulanza del 118 di un 3-4 giorni per can manutenzione e questo è inaccettabile e quindi chiediamo che gli organi interessati ASP, la Regione ed altri verificano quello che è successo per sanzionare chi sono il responsabile e per far sì innanzitutto che simile anomalie non possono succedere in futuro al sud, da Roma a scendere purtroppo siamo abituati che chi ha delle responsabilità apicale, dirigenziale non fa fino in fondo il proprio dovere ora, io mi rifiuto di credere che una sana gestione tenere una città come Niscemi senza un servizio di autoambulanza perché per quello che si dice era in manutenzione chi ha compiti di responsabilità deve gestire la cosa pubblica o privata qualche sia in un modo trasparente ed efficiente Quanto accaduto, sottolinea Di Dio è gravissimo e inaccettabile per la comunità niscemese Mi auguro che da questa esperienza negativa di Niscemi possa farne tesoro anche gli altri comuni e le altre gestioni di tutta la Sicilia perché capisco che quello che è successo a Niscemi purtroppo può succedere anche in ambito regionale Un ulteriore avviso per programmare il trasporto speciale a cudenti nelle scuole dell'obbligo e servizio di aiuto domestico per disabili è stato inviato al sindaco di Gela agli assessori ai servizi sociali e bilancio e al presidente del Consiglio Comunale dall'associazione H presieduta da Maria Concetta Maganucco e il cui consulente legale è l'avvocato Paolo Capici tutto questo al fine di evitare disagi e o interruzione all'utenza per mancanza o insufficienza di fondi l'amministrazione si attivi fin da ora per la programmazione delle risorse necessarie per i servizi individuando le giuste somme per i soggetti aventi diritto di quanto previsto dalle leggi di settore sono passati 5 anni dalla scomparsa di Don Giulio Scuvere il centro di cultura e spiritualità cristiana Salvatore Zuppardo assieme all'associazione Gaudium et spes Don Giulio Scuvera lo ricorda nella parrocchia San Tommaso a Butera appuntamento previsto per sabato 23 luglio alle 19 con una solenne celebrazione eucaristica sono stati aperti questa mattina i cantieri lungo la strada di pertenenza comunale all'ingresso orientale di Gera l'appalto, cosiddetto gelest è stato giudicato ad una associazione temporanea di imprese formata da una ditta di Partenico e da un'azienda di Napoli l'importo lordo dei lavori ammonta 790.000 euro previsti su 32 km quadrati di strada gli interventi che comprendono la scarificazione, la bitumatura e la segnaletica orizzontale sul percorso nevralgico in direzione di Vittoria e su due arterie interne nelle adiecenze questa mattina sul posto sono recati il sindaco Domenico Messinese e l'assessore comunale ai lavori pubblici Flavio Di Francesco un tratto di strada che è stato trasformato per molto tempo e che tutti i gelesi sanno in che condizioni era il manto stradale l'intervento che sicuramente garantisce più sicurezza e che consente di poter avere sicuramente un accesso più decente rispetto a una strada rattoppata sono dei lavori importanti è una richiesta che insomma si tratta di molto tempo e siamo riusciti insomma finalmente a iniziare questi lavori siamo molto contenti anche perché è una strada molto 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 trafficata come potete vedere anche dal traffico veicolare che c'è alle mie spalle quindi sono lavori importanti è una strada che è radissistata da tempo e finalmente si renderà una strada normale per i disagi sono lavori stradali quindi come tali ci sarà un po' di disagio ovviamente come potete ben vedere è una strada che cambia da molti camion molti autoarticolati che ovviamente a causa della mancanza dell'autostrada sono costretti a fare questa strada quindi ben ben che la stiamo sistemando chiaramente gli interventi non sono solo su un'altra strada ma anche interventi interni in alcune strade interne del lato est della città è prevista da domani al 30 luglio prossimo presso l'ospedale Vittorio Emanuele di Gela la presenza del camper all'interno del quale sarà effettuata gratuitamente la mammografia a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni ci si potrà presentare anche senza specifico invito l'esame infatti verrà effettuato ugualmente contemporaneamente sarà consegnato agli utenti il kit per eseguire lo screening al colon l'iniziativa è dell'ASP2 di Caltanissetta che promuove l'importanza della prevenzione per tutte quelle patologie dalle quali si può guarire con una tempestiva diagnosi corretta ad accogliere le donne che si sottoporranno ai controlli ci saranno i volontari della FARC che affiancheranno gli operatori dell'ASP in conclusione della prima parte del nostro telegiornale vi ricordiamo che questa sera alle 21 sarà riproposta la replica della trasmissione agora condotta da Franco Gallo che domenica scorsa per un problema tecnico non è andata in onda dunque vi ricordiamo questa sera alle ore 21 la replica di Agora adesso ci fermiamo c'è la pubblicità tra poco bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale nell'ambito del percorso formativo anche tu puoi salvare una vita l'organizzazione di volontariato Giubbe d'Italia coordinata da Orazio Goccomini organizza un corso di formazione come esecutore BLS di l'iniziativa si svolgerà sabato 30 luglio prossimo con inizi alle 9 presso l'aula di formazione della sede operativa di via Falcone incontra da Brucazzi il termine ultimo per l'iscrizione è fissato per il 28 luglio gli interessati per informazioni e iscrizioni possono contattare gli uffici al numero 0933 914419 oppure inviare una mail a giubbeditaliachiocciolotmail.com oppure contattare la pagina Facebook Giubbe d'Italia Gela e si terrà nei prossimi 27, 28 e 29 luglio il corso di formazione di primo e secondo livello rivolte ai volontari dell'Associazione Aderenti al Corese al coordinamento regionale sanità l'evento è organizzato da Pubblica Assistenza Procivis Protezione Civile di Gela in collaborazione con l'assessorata alla salute della regione siciliana e si terrà nei locali di via ossidiana al numero 23 gli interessati possono inviare il proprio nominativo e la propria adesione entro e non oltre domani all'indirizzo di posta elettronica p.a.procivis chiocciolatiscali.it all'ufficio coordinamento provinciale di Caltanissette presso la Procivis al corso possono partecipare tutti i soggetti che hanno già compiuto 18 anni Il governo nazionale deve accendere riflettori sul caso Gela perché oggi la città a seguito della grave crisi occupazionale è in ginocchio le attività continuano a chiudere e la preoccupazione è altissima e la gente inizia a diffidare dello Stato delle istituzioni e soprattutto della politica bisogna dare risposte concrete per la crescita del territorio giolese lo dice Francesco Agati segretario cittadino del partito politico conservatori e riformisti di Fitto che ha investito del problema le alte cariche dello Stato Il governo nazionale di Giacati deve intervenire sulle bonifiche delle aree di Smerseni zona franca industriale e intermodale realizzazione dell'interporto partenza dei cantieri autostradali dalla città realizzazione e potenziamento della ferrovia elettrica ed ancora realizzazione del porto per diportisti e pescatori eliminazione in tutto il territorio dei vincoli SIC e ZPS e gestione a società private del pontile della regione oggi utilizzato in maniera monopolistica da Eni la posizione di Gela al centro del Mediterraneo permette l'assorbimento dei flussi commerciali internazionali a 25 miglia a sud della città del Golfo transita il 25% del commercio navale mondiale tramite le navi container che navigano da oriente a occidente dal canale di Suez allo stretto di Cibilterra e viceversa sicuramente vantaggioso dice ancora Gati sarebbe realizzare queste opere e investire nella città del Golfo per imprenditori nazionali e stranieri potrebbero verificarsi ricadute economiche sociali ambientali sanitarie ed occupazionali per l'intera Sicilia ci vuole un costruttivo e sano confronto bisogna chiude i gati mettere alla parola fine all'emergenza Gela si rinnova si rinnova l'appuntamento con la manifestazione l'estate gelese con la musica colta promossa dall'associazione amici della musica navarra di Gela con il patrocinio del comune domenica 24 luglio alle 21 e 15 all'ex monastero delle benedettine è prevista il concerto lirico del trio Micaela d'Alessandro soprano salvo di salvo baritono e Annalisa Mangano al pianoforte il direttore artistico della manifestazione il maestro crocifisso Ragona proseguono gli appuntamenti con i venerdì letterari all'Eschilo Lab il prossimo 22 luglio alle 19 e 30 la libreria Mondadori in collaborazione con l'assessorata alla cultura presenterà il libro I prigionieri di Sirte di Nino Milazzo dialogherà con l'autore Roberto Tufanu adesso parliamo del gelacalcio Suda e parecchio alle pendici dell'Etana Zafferane 3 ha il gelacalcio che si appresta a disputare il campionato di Sede D la comitiva bianca azzurra rimarrà in ritiro fino al prossimo 31 luglio si lavora con grande abnegazione così come nello stile del tecnico Toto Brucculeri il gelac così come riferito ieri dal direttore sportivo Giovanni Martello vorrà dire la sua in un torneo così difficile e intrigante non esiste il termine comparsa lo rimadisce anche il vicepresidente del club Lucio Antona siamo in sintonia con il direttore Giovanni Martello anche perché come sapete il presidente comprimario il nostro presidente il comprimario la figura comprimario non la vuole fare quindi sicuramente faremo un campionato intanto per vedere effettivamente la categoria come si pone perché non abbiamo grande esperienza sulla serie D anche con l'abolizione della C2 adesso la serie D è paragonabile ad una buona C2 perché quindi vogliamo capire bene quali sono i confini di questa categoria di questa nuova categoria che affrontiamo con grandissimo entusiasmo l'organico è ancora da completare si lavora lacrimente per cercare altri giocatori che possano fare a caso del Gela tra poco sarà lanciata anche la campagna abbonamenti e la società si aspetta una risposta concreta massiccia da parte dei sostenitori perché il dodicesimo uomo in campo non deve mai mancare al fine di conseguire i migliori risultati ora chiediamo un'aiuto alla città anche piccolo perché è fondamentale che la gente di Gela sia buoni perché così avranno delle facilità azioni sui prezzi il prezzo della singola partita si abbassa notevolmente e poi danno una mano alla società perché per prendere 13, 14, 15 giocatori tutti nuovi c'è stato un notevole sacrificio economico come potete capire quindi ci aspettiamo dalla città un grandissimo ritorno veramente ci aspettiamo che tantissime persone si abbonino anche perché personalmente tutte le persone che mi incontrano mi chiedono quanto costa un abbonamento quando saranno pronti gli abbonamenti e su questo stiamo lavorando ci aspettiamo dai tifosi una risposta massiccia dopo una squadra che vince due campionati di fila l'anno scorso un campionato eccezionale fantastico quest'anno ci troviamo in una categoria splendida veramente splendida quindi ci aspettiamo i tifosi ora lo stadio fa raulestighting credo per cui effettivamente potremmo avere cose ottime ottime cose ottimi risultati per la Gela Sport alla finale della Coppa Italia Lanci di atletica leggera per atleti disabili che si è svolta domenica a Ragusa Giussi Nicoletti ha stabilito il record italiano del getto del peso con 4,25 metri mentre Giuseppe Semplice nella clava ha totalizzato 13,14 metri la società gelese è presieduta da Rocco Addario accompagnata dal tecnico Leone Zappulla e dall'assistente Emanuele Nicoletti si è presentata alla manifestazione con 8 atleti adesso Vacanze per tutti si riprenderà a ottobre con i campionati italiani di società primo trofeo podistico Ivan Siciliano si terrà domenica 31 luglio prossima a Marina di Acate l'iniziativa è dell'associazione contro le stragi del sabato sera presieduta da Salvatore Siciliano in collaborazione con l'atletica Padua Ragusa e l'atletica Mazzarino la gara che avrà inizio alle 17.30 è valevole come undicesima prova del Grand Prix Provinciale Senior Master le iscrizioni possono essere effettuate entro il 27 luglio prossima all'indirizzo mail siciliachiocciolamaisdam.it non lo faccio più è la commedia che sarà portata in scena dalla compagnia teatrale antidoto di Gela venerdì 22 luglio prossima alle 21 presso l'arena all'aperto del teatro antidoto l'ingresso è 5 euro a coppia sabato 30 luglio invece alle 21.30 Giobbe Covatta presenterà la Divina Commediola in questo caso il biglietto costerà 10 euro è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale vi ricordiamo che servizi notizie approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è costantemente aggiornato arrivederci Grazie